La struttura complessa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari diretta dal dottor Antonio Pazzola sta portando avanti uno studio e l'utilizzo di nuovi farmaci e nuovi trattamenti antitumorali che aumentano la sopravvivenza dei pazienti oncologici e che stimolano il sistema immunitario. La struttura oltre che dell'attività assistenziale si occupa di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica. Tra i trattamenti antitumorali a tripista si segnala quello per il melanoma metastatico. Si tratta di un tumore che dieci anni fa, spiega l'oncologo, era considerato privo di cure. L'aspettativa di vita media per un melanoma metastatico era di soli nove mesi dalla diagnosi. Oggi lo scenario si è completamente ribaltato e il melanoma può essere trasformato in una malattia cronica. Il melanoma è diventato la seconda neoplasia più diffusa tra gli uomini intorno ai 50 anni e la terza tra le donne nella stessa fascia d'età. In Sardegna sono annualmente riscontrate più di 250 nuove diagnosi di melanoma. Il centro sassarese vede 130 nuovi casi all'anno. Secondo i dati, a disposizione della struttura di oncologia medica, oltre il 50% dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi, con la combinazione di due farmaci. Alcuni pazienti, aggiunge Antonio Pazzola, dopo sole quattro somministrazioni, sono liberi da malattia da oltre dieci anni. La struttura poi è particolarmente attiva nei trattamenti dei pazienti con tumore polmonare metastatico. La fascia d'età più colpita è quella compresa tra i 65 e i 70 anni, mentre resta rara sotto i 40 anni. L'oncologia sassarese registra 200 prime diagnosi all'anno e ne prende in carico annualmente circa 150. Lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione clinica ha portato così a modificare l'attività della struttura di oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari.